Armi da guerra provenienti dall'Esta arrivate sulle coste del Salento per finire nelle mani della SCU. Cinque le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Lecce Antonio Martalò su richiesta del sostituto procuratore Alberto Santa Catterina della direzione distrettuale antimafia eseguite dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. A finire in manette Giancarlo Capobianco, 50 anni di Francavilla Fontana, Vito Stano, 44enne mesagnese, Francesco Gravina alias Gabibbo, 34enne di Mesagne e infine Nicola Destino e Nico Passiante rispettivamente di 25 anni mesagnese e 21enne di Francavilla, quest'ultimo l'unico a non essere già detenuto e a cui sono stati concessi i domiciliari. Tutti accusati a vario titolo di traffico, trasporto, porto e detenzione di armi clandestine comuni e da guerra, nonché di ordigni esplosivi, bombe a mano del tipo ananas e anche di ricettazione. Il gruppo di cui avrebbero fatto parte altri sette soggetti, al momento solo indagati, secondo l'accusa avrebbe svolto un ruolo organico all'interno della scubrindisina, rifornendola di armi e munizioni per mettere a segno rapine e attentati. L'operazione, denominata Scacco agli Imperiali, è il frutto di un'indagine complessa, avviata nel novembre 2010 in seguito all'omicidio di Francesco Logorio e del tentato omicidio di Nicola Canovari. Nelle successive indagini venne scoperto un mini arsenale in dotazione ad un gruppo di giovani francavillesi, armi tutte riconducibili a capo bianco, come poi rivelato da un pentito.